Cambia la fretta del mattino in un piacere con Kellogg's Corn Flakes. Diventa facile la colazione, sono pronti in un attimo. Sono buoni, sono naturali, sono la mia colazione. Kellogg's Corn Flakes e latte fresco, solo così mi sento pronto, a posto. È incredibile, ora facciamo colazione tutti insieme. Kellogg's Corn Flakes. Cambia faccia alla prima colazione.